Ettore Fragale, da Cosenza. Sono partito ieri alle 7 con Pricks e sono arrivato a San Donato di Milanese. Poi ho preso la metropolitana, proprio per venire a trovare Zio Silvio, per soglia di verità. Io l'ho votato prima Zio Silvio, io lo chiamo Zio Silvio perché è il più grande di me, io ho 67 anni. Poi adesso voto Lega, e dalle 7 di ieri sono arrivato alle 9 e mezza, ripeto, lì a San Donato di Milanese, poi ho dovuto prendere la metropolitana, insomma sono 15 ore o più. Sì, ho venuto a portare a Zio Silvio l'acqua della cucciarella di San Francesco di Paola, gli ho portato il famoso abitino delle cose, delle devozioni, gli ho portato l'opuscoletto della processione che facesse stare bene a Zio Silvio lì al santuario di San Francesco di Paola. Insomma le immaginette, io dico che Zio Silvio, se avrò modo, qualcuno che se lo prende mi dà il piacere di portargli, se lo deve far ingorniciare come un Picasso, perché all'età che c'ha, perché siamo di passaggio tutti, gliene auguro. Ha portato tanto onore all'Italia, a un imprenditore, dà da mangiare a tanta gente. Insomma è uno degli imprenditori che se non avessero questa gente l'Italia non sarebbe tra le prime nazioni, tra le prime 10 nazioni più ricche del mondo. Fino a quanto tempo prevede? No, io ho tempo di dare questo a Zio Silvio e poi comincio a scendere verso la Calabria. Io devo dare questo che mi assicuro che le danno a Zio Silvio. Questo è l'abitino che dovrebbe far ingorniciare a Zio Silvio, l'abitino di San Francesco, grazie da ricevere e che hanno ricevuto. Poi il cappellino delle cose, l'acqua della cucciarella e le immaginette di San Francesco. Questa è la famosa storia di San Francesco che attraversa lo stretto di Messina, vedete? Poi San Francesco è così e altre immagini.